venere fiorenza tipo di opera scultura artista jean de boulogne detto gian bologna data 1570 1572 committenza cosimo primo de medici materiale bronzo altezza 125 centimetri ubicazione villa medici e della petraia primo piano siamo al primo piano della villa nello studiolo di fiorenza così chiamato perché consiste in una piccola stanza che collega due ambienti e che contiene unicamente la statua di venere fiorenza l'opera è posta al centro sopra un piedistallo ottagonale la scelta di rappresentare fiorenza cioè la personificazione della città di firenze come venere anadiomene ovvero nascente dal mare corrisponde alla volontà di cosimo primo che identificava la dea come progenitrice ideale della casata dei medici iniziatrice di una nuova era di dominio sulle altre città della toscana lo studiolo di venere occupato esclusivamente dalla statua al centro ha una finestra e le pareti decorate con affreschi che simulano finestre con inferriate e una loggia caratterizzata da una balaustra in marmo al di là della quale si apre una veduta di campagna entrando nella sala venere fiorenza rivolge lo sguardo verso di noi mentre ha il corpo orientato verso una parete su cui è riprodotto un paesaggio campestre volta le spalle all'unica finestra presente nella sala la scultura bronzea è alta 125 centimetri e fu realizzata intorno al 1570 da giambologna su un modello di nicolò tribolo come completamento della fontana a sua volta progettata dal tribolo che si trovava nel giardino della villa di castello da lì nel 1788 la fontana fu smontata e spostata per volere di pietro leopoldo di lorena al centro del giardino della villa della petraia oggi ne resta il basamento poiché le altre parti sono state posizionate in ambienti più idonei alla loro conservazione nel 1980 la statua di venere fiorenza che come accennato completava la sommità della fontana venne restaurata dall'obbificio delle pietre dure e nel 1987 fu collocata dentro la villa dove ancora oggi si trova all'interno della statua si trovano le tubature che permettevano all'acqua di fuoriuscire dai capelli e che potevano essere monitorate grazie ad un'apertura sportello estraibile che si trova dietro la spalla sinistra ma avviciniamoci alla statua ci troviamo davanti alla figura di venere fiorenza la giovane dea e personificazione della città si trova sopra una base circolare in bronzo sostenuta da un piedistallo ottagonale in pietra è in piedi nuda e poggia il piede sinistro sopra un vaso piegando il ginocchio il corpo è leggermente proteso in avanti nell'atto di favorire il gesto di spremersi i lunghi capelli ondulati per alleggerirli dal peso dell'acqua poiché come già accennato la dea è appena emersa dal mare è un'azione che compie con entrambe le mani tenendo il braccio sinistro piegato e volgendo la testa a destra la mano destra stringe energicamente la chioma in alto affondando le dita al suo interno mentre la sinistra sorregge la fine della lunga ciocca con gesto più delicato ed elegante i seni sono piccoli i fianchi rotondi e floridi nell'insieme il corpo risulta formoso e morbido di una morbidezza generosa che non viene contraddetta dal bronzo il volto idealizzato e armonioso presenta allineamenti dolci il collo è elegantemente allungato il naso dritto e la bocca chiusa la fronte alta e spaziosa il mento è piccolo la postura è spontanea e rivela il gesto abituale di una ragazza inconsapevole di essere osservata e forse di incarnare il mito e la città dei medici ma lo sguardo sembra presagire la sua missione osserva un punto distante pur volgendosi direttamente verso noi che siamo entrati nella stanza e si allontana almeno per un momento dalla quotidianità della sua azione il gesto di venere ha numerosi precedenti nell'arte che si ispirano alla descrizione di plinio il vecchio di una pittura perduta del pittore greco a pelle nella quale la dea era raffigurata appunto nell'atto di spremersi folti capelli una volta emersa dalle acque nella scultura di giambologna la posa risulta essere anche un buon espediente che permetteva alla fontana di far uscire l'acqua dall'estremità dei capelli ma qui nella sua nuova collocazione ci appare come un cenno abituale che svela il lato umano della dea e che ci permette di cogliere la bellezza delle azioni quotidiane intime fiorenza è appena uscita dalle acque come venere ma non è che una giovane nuda ancora all'oscuro della propria missione che si asciuga i capelli con le mani che si identifica in quel primo gesto senza pensare al futuro è una bellissima firenze spiata nella sua essenzialità nella sua sintesi originaria è una firenze alle prime luci dell'alba